ed io una focaccia renitente al sentire a cura di vb emmaus lo strumento del cerchio d'oro tornava dal lavoro verso le 19 e 30 e prima della riunione mangiavamo in una pizzeria emmaus prendeva una pizza ai quattro formaggi di una focaccia con la ricotta e la ruchetta faccio queste precisazioni perché il ripetersi delle ordinazioni aveva attirato l'attenzione di chi ci serviva tanto da farci apparire strani e non si sa perché omosessuali è anche vero che se qualche stralcio dei nostri discorsi era giunto all'orecchio del personale della pizzeria non poteva ispirare impressioni di normalità parlavamo dei fenomeni fisici di cui eravamo testimoni della frequenza con cui si succedevano le riunioni decisioni che erano della guida imperator della difficile situazione in cui si trovava lo strumento strattonato dal suo lavoro di giornalista e di militante politico e dai suoi disagi sentimentali raramente parlavamo anche dei miei disagi sentimentali all'inizio un fenomeno ci apparve strano se è possibile chiamare strano quello che accadeva in una folla di fenomeni fisici che contraddicevano ogni razionalità una piccola sveglia che era sulla lavatrice della mia casa in cucina prima durante qualche volta dopo la trance era ripetutamente trovata nel congelatore a un metro di distanza dal luogo in cui era abitualmente secondo il tempo in cui era rimasta al gelo la sveglia pariva in parte appannata e da questo deducevamo l'ora d'inizio del fenomeno inoltre la sveglia rimaneva spesso indietro di un'ora